A chi acquista The Peel Soup in regalo Lemon Dent, denti bianchissimi con succo di limone. Enrico Montesano, un grande starto, perde sempre ma non si arrende mai. Sono proprio un impunito nel merce. Se non ci fossero gli amici, e che amici? Capirai, e chi sarà il Meyer, il padre? A proposito, anche Adriano era sulla buona strada, ma Adriano è sempre Adriano. E ridi anche, ti permetti di ridere. Per il ciclo Scaccia Pensieri, qua alla mano, giovedì 20 e 40, canale 5. Vi piace vivere bene? Cercare sempre il meglio? Per voi Salus, rivoluziona il concetto di riposo. Rigitex Antigerm è il materasso ortopedico che asseconda il corpo, regalandovi un comfort mai provato. Il trattamento batteriostatico e fungostatico assicura igiene e freschezza ottimali. Cercate Salus nei migliori negozi di arredamento. Per star bene di giorno, il benessere anche di notte. Salus, i materassi della salute. Del arrosto, signore? Sì, grazie, lo metto pure qui. Ma cosa fai? Preparo il sacchetto. Ai matrimoni c'è molta confusione. Io porto tutto a casa, lo congelo e lo mangio con comodo. Fallo anche tu. I nuovi sacchetti Cookie Gelo Più conservano benissimo. Cookie Gelo Più, l'unico con il doppio strato. Più sicuro dentro, più forte fuori. Cookie Gelo Più. Due strati proteggono più di uno. Questo matrimonio si conserverà a lungo. Anche in estate non rinuncio a Monk's Diet, la mia caramella balsamica fresca e dietetica. Per crescere bene ci vuole un'alimentazione bilanciata, cioè che cambia ogni mese come cambia lui. Il programma Mellin di alimentazione bilanciata gli dà la prima carne all'inizio dello svezzamento. Lui cresce e arrivano i progressi, con la frutta, le vitamine e i sali minerali. Lui cresce ed ecco i biscotti, integrati con calcio e fosforo. Perché più l'alimentazione è bilanciata, più la crescita è equilibrata. Mellin, l'equilibrio nutrizionale della crescita. E' arrivato il tempo di cambiare. Passi, 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 passi. E con il passi avanti e indietro puoi girare. Le passate, i piatti che vorrai. Premi un tasto e fatica più non fai. Passi, 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 passi. Io passo a passi. L'unico bassa verdura elettrico. Ariete, il genio della casa. Da settembre cambierà tutto. Da Casa Vianello a Cascina Vianello. Cambierà tutto, insomma. Perciò ci vediamo dopo le vacanze. Cascina Vianello.